Una riqualificazione importante, sì perché dal 30 aprile le dimissioni dei tre medici di base che garantivano il servizio a più di 4.000 cittadini del quartiere Ferrovieri aveva messo la gente in stato di agitazione, soprattutto i più anziani erano preoccupati. L'organizzazione del servizio è dell'Ulsotto, ma la palazzina di Via Fincato che ospita l'ambulatorio è di proprietà comunale. Per questo, ai cittadini allarmati, l'allora sindaco Francesco Rucco aveva assicurato di essere pronto a riqualificare lo stabile. Oggi la nuova amministrazione di centrosinistra ha ereditato questo impegno, riqualificare la palazzina che per l'autunno prossimo dovrebbe essere pronta a ospitare tre medici di base dando una risposta a 4.500 cittadini. Ma con l'assestamento di bilancio si accende la polemica politica. All'interno dell'assestamento di bilancio il sindaco Pursamai annuncia 300 piccoli interventi in tutta la città. Peccato che il sindaco si sia dimenticato dell'intervento più urgente e più importante, soprattutto per il quartiere dei ferrovieri, ovvero il progetto da 71.000 euro di sistemazione degli spazi per l'apertura dell'ambulatorio dei medici di base. Questo per noi era un intervento prioritario sul quale ci siamo impegnati e che sarebbe stato da parte nostra fatto immediatamente. L'amministrazione Pursamai in questo momento se ne dimentica e ci tocca constatare che questo intervento verrà quindi procrastinato nel tempo mettendo in crisi la futura riapertura del servizio dei medici di base all'interno del quartiere dei ferrovieri.